it's because bene ragazzini sono gilbra gastro qui oggi tornato a portare di un video in cui vi mostro quella che secondo me è in questo momento la miglior mitraglietta su black ops sto parlando della mitraglietta cordire con la modo operator perché secondo me la rende veramente forte poi successivamente con fuoco rapido canna lunga impugnatura inizioni stimolanti e sciacallo andremo adesso su new town e proviamo a fare qualche qualche danno pesante agli avversari vi sono messo un po di streaks non troppo forti ma nemmeno troppo scarse ci facciamo qualche partita c'è che voi tirate qualche streaks almeno qualche streaks ve la voglio portare in questo video qua e niente ragazzi andiamo a spaccare i culi anche se questa qua è esattamente la prima partita da due giorni perché ieri non avevo voglia di giocare oggi sono da mangiare il sushi stamattina sono appena tornato a casa e oggi e adesso proviamo a fare qualche il nostro batteri perché è bella pulita e proviamo a fare un po di danni anche se la prima partita la sto giocherò di merda perché è la prima partita del giorno come avevo già detto prima e quindi no una pesca di tv km is back tra gli avversari quindi giocherà con il mitraglione e io mi incazzerò come una bestia c'ho il compagno giocherà con il cecchino piga svegliate un po ma muore muore anche tu wow come l'ho ucciso questo wow muore anche tu madonna ma c'erano tutti con me vuoi anche tu ok raga dobbiamo calmarci un attimo devo far cambiare un attimo gli spawn perché ce l'ho tutti addosso non riesco a farli cambiare no la mina no la mina no oh amico ce l'hai dietro cazzo poi vi scallo ma che casino c'è raga madonna che casino uccisione confermata gli utenti non è giocabile solo su dominio e postazione ok direi che come prima partita non è andata male perché abbiamo fatto rotto praticamente due però non va bene noi le strix le vogliamo e li tiriamo deve solo uscirci una modalità che non sia uccisione confermata perché su uccisione confermata e nuketan le strix non si tirano mai subito subì raga eh madonna questo ha come non è andato giù vorrei la spiegazione raga oh quello lì fatica sempre andrà giù eh come l'ho ucciso questo aiuto eh granata madonna le granate oh ma a me ultimamente non danno mai il secondo equipaggiamento pazzesco vabbè due almeno le uccise non so come mai a me non lo da mai eh il secondo equipaggiamento non me lo da mai la granata non me la da non capisco perché ma che che ci prende Charlie oh cosa vuole fare questo oh la mia non mi sento la mia non mi sento non mi sento la mia mi sento qui oh mio dio raga casino stiamo facendo wow 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 tutte le streaks no ma perchè non mi hanno coperto i compagni ma pensa te pensa te almeno le streaks le abbiamo prese però i compagni che non mi coprono malissime dove spavano i nemici abbiamo preso tutte le bandiere sono tutti qua che dite sono morti ah ma fanno anche qualche kill lsx fanno finta muore ma il l'elicottero cecchino non mi sta facendo kill che casino ha fatto distrutto distrutto anche tu mamma mia che devasto che ho fatto raga pazzesco ok raga sono a 50 punti dalla prossima streaks che è l'elestorm appena prendiamo la cosa andiamo a prendere lsx finta gli lo tiriamo quando vanno a prendere b e li spacchiamo raga intanto ci siamo a 48 che è not bad anche se l'elicottero cecchino non mi ha fatto una kill manco per sbaglio mi pare non lo so mi sembra di non aver visto nemmeno una kill Ok Prendiamo questo Poi aspettiamo che si possa tirare l'Elstorm Lo tiriamo Uh Lol Wow Ok di nuovo tutte le streaks Belle pulite Ma come va l'elicottero non fa più una kill Manco per sbaglio Pazzesco Ok Oh là Ora fa anche qualche kill Lol Sono di nuovo in prossimità delle streaks Muore Guardate lì E ora faccio le big kill Braave streaks Ma quante kill sto facendo raga Wow Muore Braave streaks Non so quante kill sto facendo Non voglio vederlo Non voglio vedere solo alla fine Wow No Sono morto di nuovo A pochissimo delle streaks Comunque questa è una partita Devastante raga Poi a fine partita Voglio vedere quante kill ho Ma penso tante Ok Ok ora Ora mi stanno facendo un po' di kill Le streaks Oh micchia raga Siamo a 79 kill Pazzesco Davvero una bella partita Ma quante kill sto facendo Le streaks Paura Bravo Ma questo qua come l'ho ucciso Pazzesco No Peccato Ok raga Bella partita Bella bella partita Raga 88 12 Non Non Male Non male Non male Pazzesco Stiamo puntando al 100 più Tra poco ve lo porto Tra poco ve lo porto Niente raga Io spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Un commento E niente raga Ci vi chiamo direttamente Al prossimo video